in diputato inizia 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 mi hanno messo i rami perché se vado nel pangolo la moto si sporca ma che tanti ero porca boia il cartone è sempre in dentro non c'è più che bel fango non c'è più non c'è più che si muove perché non è sempre appena un bel posto forza Dario da un tempo cazzi ma mi salvai nonostante non avessi le ginocchiere e mi sbucciai i ginocchi i ginocchi signori i ginocchi i ginocchi che ragione erba pango porca boia che merda è sporca così la moto sporca brutalmente la moto mi è entrato un insetto nello stivale penso penso sento un formicolio ma sembra qualcosa di più grosso titolo e' perciò che si sa che si sa che cosa si sa che fate la moto compagnoe non c'è potrebbe poter l'acqua se non c'è potrebbe poterla mister da rioschi pazzo che non dà la precedenza sono alla destra è un coglione vero e proprio un po' Pimenta Pimenta Piaietta Pimenta Pidita Pmenta Allora dobbiamo beccare il video eccolo l'aria arriva Scusate Pansani 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 Qui Salve camion Attenzione Attenzione Possato A ore 3 3 3 3 Altro infossatore vediamo di non trovare cavalli ne abbiamo già 29 di cavalli che sono abbastanza per divertirsi qualcuno qua dietro non sarebbe d'accordo attenzione attenzione quanto è bella sta moto non ho aspettato spero di non aver perso il paramotore artigianale ricordiamo attenzione guardali i solchi attenzione istana deputata da stealth attenzione dec 극 l'personal la